Buongiorno a tutti, sono sempre di Trasuntotto, allora altro video notturno perché è scattata la mezzanotte del 28 novembre e quindi siamo entrati ufficialmente nell'Amazon Cyber Monday è l'ultima giornata, le offerte incredibili su migliaia di prodotti, in questo caso soprattutto tecnologici ma non solo, che va a chiudere questo periodo di sconti intensi culminato con lo scorso Black Friday a questo proposito mi avete ringraziato in tanti per i video che ho fatto relativi al Black Friday perché vi ho messo conoscenza di offerte di cui non sapevate l'esistenza quindi ho pensato di fare la stessa cosa per questo Cyber Monday così da permettervi di usufruire degli sconti che secondo me sono molto interessanti anche in questo caso quindi in questo caso troverete il link all'articolo sul mio blog dove troverete delle offerte selezionate da me tra quelle che ho ritenuto le più interessanti e mi sono limitato alle categorie che comprendono l'on video, quindi DVD e Blu-ray di film e serie tv videogiochi, console, accessori per il gaming e qualche prodotto tecnologico perché come ho detto anche nel video sulle offerte riguardanti il Black Friday chi mi segue è principalmente interessato al cinema però molto spesso anche ai videogiochi oppure magari ha bisogno di componenti per il PC e quant'altro per cui queste sono le categorie che penso possono interessarvi maggiormente sempre in descrizione qui sotto troverete anche la pagina con tutte quante le offerte di questo Cyber Monday in costante aggiornamento così potete scegliere voi quelle che mi interessano di più e poi vi consiglio come sempre di abbonarvi ad Amazon Prime oppure di provarlo gratuitamente perché vi consente di accedere alle offerte lampo circa mezz'ora prima rispetto a chi non è abbonato al servizio e poi i prodotti vengono recapitati a casa in molto meno tempo quindi il link per iscrivervi ad Amazon Prime oppure per provarlo gratuitamente lo trovate sempre in descrizione qui sotto ora, come ho fatto nel video sulle offerte del Black Friday smartphone alla mano, ho la mia lista con le offerte che possono interessarvi poi se aprite l'articolo del link in descrizione ne trovate altre in questo video vi dico quelle che sono forse le migliori almeno secondo me dunque iniziamo proprio con un video e con le offerte valide tutto il giorno fino alle 23.59 di oggi perché il Cyber Monday ci sarà per tutta la giornata proprio fino a quell'ora allora, questo a me non piace personalmente ma so che invece molti l'hanno apprezzato Batman v Superman Dawn of Justice Blu-ray più Blu-ray 3D a 10,90€ prezzo onesto direi il film l'ho apprezzato però in tanti invece lo adorano poi, trilogia in Blu-ray di Una Notte alla Leonie a 12,49€ altra offerta che secondo me è interessante io poi adoro quei film avere la trilogia è una cosa carina Mad Max Fury Road Blu-ray anche questo è interessante al caso non aveste recuperato il film Interstellar Blu-ray a 7,99€ allora diciamo che Interstellar è un film che io ho apprezzato molto forse un po' sopravvalutato perché l'ho sentito di finire un grande capolavoro io non sono d'accordo è un buonissimo film però non mi sento chiamarlo capolavoro ma se non l'avete mai visto eh eh questa offerta può fare per voi e poi Creed nato per combattere Blu-ray a 7,99€ centesimi poi offerte a tempo offerte lampo di queste non posso dire il prezzo perché il prezzo viene comunicato al momento in cui l'offerta si attiva però vi comunico che ci saranno queste offerte in questi dati orari allora dalle 11.35 alle 17.35 Star Wars trilogia prequel 3 Blu-ray ecco ho fatto con la trilogia prequel dalle 14.30 alle 20.20 questo è molto interessante The X-Files collezione completa in DVD e sono 62 dischi io so che magari uno dice eh però in DVD però insomma non è male non è niente male perché comunque avere tutta la serie di X-Files sul supporto fisico è una cosa che io sinceramente vorrei poi dalle 16.10 alle 22.10 Zootropolis Blu-ray dalle 16.30 alle 22.30 Star Wars prequel trilogy in DVD mentre l'altra è in Blu-ray dalle 16.35 alle 22.35 Star Wars original trilogy in DVD dalle 17.10 alle 23.10 The Walking Dead stagioni dalla 1 alla 5 quindi cofanetto in Blu-ray e alla stessa ora sarà disponibile anche lo stesso cofanetto in DVD dalle 17.00 alle 23.00 Star Wars The Ultimate Soundtrack Collection quindi ho voluto mettere la colonna sonora perché a qualcuno potrebbe interessare sono 10 CD più un DVD cofanetto CD di DVD classico quindi potrebbe essere interessante comunque anche la colonna sonora magari qualcuno interessa averla la 17.20 alle 23.20 abbiamo Mad Max Anthology 4 Blu-ray anche questa secondo me non è niente male quindi queste erano le offerte per i prodotti relativi al long video adesso vorrei parlarvi delle offerte riguardanti videogiochi, console e accessori allora partiamo con quelle valide tutto il giorno fino ai 23.59 dunque PlayStation 4 500 GB di chassis slim con Final Fantasy 15 in edizione Day One Edition a 289,90€ Rise of the Tomb Raider 20 Years Celebration PlayStation VR Ready Day One Limited per PlayStation 4 a 39,90€ e poi abbiamo Just Dance 2017 a 28,90€ per tutte le piattaforme comprese le console di vecchia generazione come Wii PlayStation 3 e Xbox 360 poi per i videogiochi qualche offerta a tempo console dalle 7,50€ alle 13,50€ Xbox One S 500 GB Storm Grey più FIFA 17 è un bundle più Forza Horizon 3 interessante dalle 8 alle 14 PlayStation 4 da 1 TB di chassis slim con Watch Dogs 2 e Watch Dogs in bundle dalle 9,50€ e 15,50€ Xbox One 500 GB con Minecraft e Gears of War 4 dalle 12 alle 18 PlayStation 4 da 1 TB di chassis slim con LEGO Dimensions Starter Pack dalle 13,35€ e 19,35€ Mirror's Edge Catalyst in Day One Edition disponibile per PlayStation 4 Xbox One e PC poi dalle 17,45€ 23 e 45€ Battlefield 1 con Electros Edition per PlayStation 4 con gioco incluso e anche per Xbox One alla stessa ora quindi queste erano le offerte più interessanti dal mio punto di vista per questo Cyber Monday ce ne sono poi moltissime altre non sono stato neanche quelle tecnologiche quelle potete tranquillamente spulciarle nella lista che ho fatto sull'articolo che ho messo sul blog queste erano solo e questa è una selezione sulla selezione perché nell'articolo ho inserito una mia selezione di tutte le offerte che ci sono e qui in questo video selezionato da quella lista quindi è proprio la scrematura Ultimate se invece volete vedere tutte quante le offerte trovate il link alla pagina con l'offerta di aggiornamento qui sotto in descrizione per cui spero che questo video vi possa essere stato utile vi abbraccio grazie mille per averci venuto fin qui grazie mille per avermi ringraziato mi fa piacere che i video precedenti vi siano stati effettivamente utili e posso dirvi in anteprima che domani dovrebbe arrivare un big series che mi state chiedendo la settimana e che mi sono divertito tantissimo a girare peccato che dure circa un'ora per cui preparatevi perché sarà bello ciccioso per cui spado troppo noi ci vediamo al prossimo movie vlog ciao a tutti ciao a tutti